ciao ragazzi queste sono le mie live reaction della supercoppa italiana finale juventus milan da jedda godetevele insomma fuori gioco fuori gioco la nulla sicuro ha segnato ma la nulla si degli arabi non c'è stata la pressione sul pianice si è andata a protestare sul mattino e che vogliono l'azione da fuori gioco non so se magari rivedremo l'azione non c'è stata la pressione sul pianice che avviste il movimento tu dici che gliela a nulla fuori gioco la siamo lì per me è fuori gioco però c'era rodriguez quindi rispetto al VAR se è fuori gioco guarda che è fuori gioco di poco comunque se è fuori gioco è fuori gioco di poco di tanto vai 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 cazzo vai 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 gole gole vai su è finita è finita la supercoppa l'abbiamo portata a casa primo trofeo per ronaldo in bianco nero finisce a jedda vince la juve 1 a 0 la supercoppa torna a torino dopo due anni e mezzo perché quasi tre di astinenza la juve riporta a casa il trofeo ciao a tutti al prossimo video